Ecco un saluto da tutto lo staff di Love Flight Company, Captain M, Bubble J e tutto lo staff, compreso la nostra Luna che ci saluta. Ciao! Bene, benvenuti Michele e Gabriele. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Ciao piccolino, come stai? Io sto bene. Stai benissimo? Sì. Allora, Michele tutto bene? Tutto bene, un po' emozionati, ma bene, stiamo bene e felici. E continuiamo a parlare di musica pur abbassando un po' la media dell'età. Vi presentiamo una coppia davvero simpatica e piacevolmente singolare. Si tratta di Captain M al secolo Michele e Coletta e suo figlio Gabriel in arte. Quindi ho immaginato questi personaggi che poi sono stati un po' riprodotti nel video, un po' eterogenei, che viaggiano assieme e dimostrano di potersi divertire e convivere assieme, un po' come fanno tutti i colori. I colori sono unici, sono tutti belli, ma quando li mette assieme cosa succede? Esplode l'arcobaleno, che è una delle forme più belle. Quando esce un arcobaleno tutti alzano gli occhi a guardarlo. Quindi ho immaginato questa società bella perché ricca di diversi. Dall'altra parte sicuramente dobbiamo prendere il buono di ogni generazione, quindi il messaggio è genitori e figli confrontatevi perché abbiamo entrambi qualcosa da dire. E' veramente importante quello che hai detto, hai toccato le corde proprio... E partiamo con gli ospiti di oggi, sarà una puntata coloratissima. Vi dico gli ospiti, Michele e la sua famiglia, una famiglia arcobaleno, ospite con noi. Ciao, accomodatevi, eccoli qua. Abbiamo anche una new entry. Quindi tra musica e divertimento cerchiamo di intrattenere la gente. Ci riuscirò benissimo. Al prossimo episodio Here's the dream.